Si è svolta nella Sala Tobino di Palazzo Ducale la festa del ciclismo lucchese, un appuntamento ormai tradizionale voluto dalla sezione di Lucca della Federazione Ciclistica Italiana e dal suo presidente Gianfranco Battaglia. Nel corso della cerimonia sono stati premiati gli atleti, dirigenti e le società che si sono distinti nel corso del 2013. L'elenco è molto lungo tra campioni provinciali, regionali, ma anche per meriti sportivi, tanto che rischieremmo di dimenticarci qualcuno. Il presidente Gianfranco Battaglia traccia un bilancio della stagione appena trascorsa. È stata una bella stagione sia per quanto riguarda l'aspetto organizzativo sia per quanto riguarda i risultati conseguiti nell'ambito giovanile. Veramente dobbiamo essere soddisfatti, lo vedi anche qui nella platea che c'è tutto pieno, insomma veramente il ciclismo lucchese ha onorato la regione toscana. Possiamo soltanto aggiungere che questo 2013 passerà gli annali della storia soprattutto come l'anno del mondiale a Lucca, con la partenza dalla nostra città, come dimenticarlo il 29 settembre scorso, della prova eridata su strada elite, che si è conclusa poi a Firenze con la vittoria sorpresa del portoghese Alberto Ruida Costa. Ora non resta che pensare al 2014, sperando che il pedale nostrano sappia risalire la china, visto che i numeri delle società e degli atleti in attività in questo momento non sono affatto esaltanti.